lo vernici serve una fattoria eccolo qua senza starci a pensare troppo sono pianificato governo sul manuale si è uno trattamento più severo autonomia efficiente salvaguardi dei forti rivalità flessibile ultimo l'ultimo editto all'assolutismo prima costruivano la casa dicevano aspetta un po storta buttiamo la giorni facciamola il progetto c'è allora cos'è che serve ancora il allora una fattoria commerciale però verli ma devi far bella questo è interessante fermi tutti eh no questa fermi tu eustatias polites il nostro master istruttore si è dimostrato un eccellente consigliere che sicuramente porterà grandi benefici al paese siamo fortunati ad avere nelle nostre dipendenze un consigliere così brillante quindi sfruttiamo i vantaggi amministrativi guadagniamo 15 progresso della riforma governativa più 25 di prestigio e più 40 di potere amministrativo o in alternativa guadagniamo 10 di tradizione dell'esercito 10 di tradizione navale e 100 punti di potere militare prestigio tutta la vita potere militare prestigio il prestigio ci scende di tre alla all'anno di tre al mese 3 al giorno a tre all'anno io non ho capito qual è la fattore Marciana non lo so neanche io stiamo cercando di capire tanto abbiamo ancora 20 anni hai evoluto il prestigio uno si prende il prestigio e arriva fuori il segreto di famiglia e riprovarlo pubblicamente perdita 20 di prestigio oppure forza della pretesa delle rede meno 10 alla faccia abbiamo preso i 25 al 98 e si facciamo quindi e possiamo anche aumentarla spendendo 50 di prestigio no 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 la mafia allora la fattoria com'era la fattoria? commerciale fattoria commerciale è una manifattura? eh si è forte pellice pesce e vino ah delle spie svizzere abbiamo sgammato Palermo ci manca ci mancavano solo le spie svizzere scusate ma la cattedrale a Palermo non è stata fatta io sono un po' indignato per questo no è 19 di amministrazione il prossimo come siamo messi 1650 ci siamo per manifatture ah la boviera ha accettato con l'illuminismo abbiamo costo di conversione culturale almeno 25% mamma mia allora questo è tessile però ci servirebbe quella pure tessile quindi 30 develope ah scusami com'è possibile che la in gerusalemme non abbiamo ancora vinto la guerra lo stiamo andando a 0,25 di velocità non è possibile ma ce lo sapete ma se l'avrebbe sempre l'uomo da queste guerre se sa bene che gli piace fargli soffrire gli avvissini da là fa sempre guerre che se non è al 98-99% non le chiude mai ma mi non è ancora liberato sì sì sono dei sadici maledetti ecco la storia è finita della capitale grazie a noi ah la va vediamo se le nostre colonie possono dichiarare no 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 stanno andando tutti a combattere matrimonio reale con i prussiani certo un'alleanza con la prussia più più cagosa nella storia delle prussie niente la baviera sta continuando ad allargarsi ad est è un disastro dobbiamo fare una guerra continuativa signora per me che questi stanno in coalizione o conosciamo di questa coalizione incredibile questi maledetti ci stanno tenendo pinnati con questa coalizione esatto ma come si esce da una coalizione? come arriveremo al momento in cui si esce da questa coalizione di merda? mai perché ci odiano a prescindere ma adesso c'abbiamo pure una reputazione diplomatica decente ma che la bisignia ha fatto paglia riporti indietro l'esercito vabbè questo se ne ritorna di là la cartaggine è messo qui e l'altro lo metti ad Alessandra che sennò poi c'è l'attrito ma varia una cosa divertente io se queste manifatture e già le sto costruendo da inizio game però non le dà non so perché per esempio già abbiamo delle manifatture testili ma non mi è anticipato troppo la storia non gli sta dando buone ma anche se ci sono che se ne sono l'età ad esempio fammi vedere dove era la manifattura testi nella zona marrocchina vede nel golfo di Almeria si chiama Mers El Kebir una cittadina già c'è una manifattura tessile quindi dice che la stanno troffando e qua dice richiede lana, stoffa, seta e coloranti ma io l'edificio lo vedo ma è stato lo stesso a me sembra che sia operativa ah forse ci manca quella di A forse una delle seguenti condizioni deve essere vera intanto il signor Fla che sta convocando gli stati generali comunque di una azione o per esempio il mulino ha finito di fare tanto che discutavate stavo vedendo qui cosa propongono Claire vuole che Arborea il valore fiscale di base sia 5 i nobili invece vogliono i nobili le aree della traccia dovevamo prendere Gallipoli praticamente almeno una provincia dell'area traccia è di proprietà del Mediterraneo no, lascia perdere i borghesi invece è tutto un lascia perdere qua dobbiamo prendere il capo di Buona Speranza dove c'è piccolo Namaqua Inland quella si può fare se vuole però i borghesi uh che brutto no ma la prima anche si può fare però il clero è da tanto non lo cascamo cascamo male borghesi, clero, nobili è direi di togliere questi stati generali possiamo mettere qualcos'altro è lei che continua a convocarli in maniera in maniera del tutto ah vabbè allora faccio finta di niente non clicco niente bravo sì non esce quello dei nobili no, no, clicci dai, ormai la ha convocati vabbè dai lo facciamo il clero il convoco poi non si presenta attenzione fanteria gustaviana aspetta, aspetta non clicchiamo non ci clicchiamo vabbè provvigionamento massimo più 50 tattica meditata più 0,25 fanteria sassone fortificazione alla moderna allora alla moderna fortificazione di lusso picchi tutti ma chi? ma non picchi tutti lo stesso la lota ninja cosa vuole la lota ninja? niente, stavo guardando ah vabbè però la lota ninja comunque siamo messi male cambiamo un attimino i nostri rivali no? invece che la ci mettiamo all'andalusi invece che la lota ninja ma no ma il cazzo l'andalusi non siamo rivali con la lota ninja sì perché togliamo perché la lota ninja almeno è più lontana è più più bella più grande attenzione 10 prestigio 1200 ducati 1200 ducati vai sì tutti d'accordo aspetta il guadagno no no guadagno di 1200 ducati sono due guadagni o guadagniamo 10 il prestigio guadagniamo 1200 ducati ma tanto il prestigio non riusciamo mai a mantenerlo sì tanto siamo a più 35 quindi siamo a posto sì stiamo a posto ne perdiamo 3 all'anno e chi se ne frega quindi che risposta è? quindi scelgo a lui i soldi? no scelgo i soldi 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 scegli la busta non serve il prestigio se sei ricco quello compri il prestigio penso va da la tecnologia militare ma aspetta un attimo ma quindi non posso mettere il rivale all'andaluso? puoi farlo invece che la invece che la ruota ninja capito? ci basta cambiarlo allora niente e quanto costo? è prestigio di quanto? no no ah 105 di potere diplomatico quale? diplomatico lo vuoi fare ma insomma oh ben insomma vabbè dai aspettiamo tanto con la ruota ninja non ci facciamo niente lo stesso in un momento vai avanti con la tech l'hai fatta l'ha fatto la fabbrica di armi? sì ho fatto pure quella e la piantagione? pure quelle ma le ho fatte dall'inizio dall'inizio game eh sappiamo tutto allora quando poi sarà l'anno vedremo ma non dice niente una nuova fanteria signora Attila quindi magari le cambia cambia no 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 tranquillo no hai quando cambia il combat width dobbiamo ancora a 32 ah possiamo arrivare a 400 di limite delle forze terrestri sì sì ma mentiamo assolutamente reclutate devo modificare quelli là in Spagna pure allora se andiamo per fare scura puoi fare ancora una trentina di navi di averne sì stavo guardando una flottina che stavo dicendo che se andiamo a vedere l'istituzione ci dice che in realtà c'è la X dice che non ce l'abbiamo ma se va a vedere ce l'abbiamo ci abbiamo tutto poi a parte che dice che deve essere solo una vera che dice ah è vero vabbè sì però buono si capisce noi developpiamo comunque tutto a cannone un po' a parte che dovevamo fa pure una missione lì di 50 punti abbiamo il develop di Palermo di 51 non so perché non lo do crescita del livello di sviluppo totale di almeno 50 può dire tutto io le leggo quello che dovrebbe essere una media c'è Aaron e Gandhi appena pubblicato il capolavoro della scariera letteraria lo spirito delle leggi quest'opera monumentale già famosa per tre delle sue numerose teorie la tipologia dei regini politici l'influenza su politica e soprattutto la teoria della separazione dei poteri i suoi sforzi saranno ammirati in tutta la nazione guadagno di 50 di potere amministrativo e costo di tecnologia amministrativa a meno 10 fino al 39 o altrimenti la sua reputazione supera i nostri confini guadagno di 50 di prestigio costo di tecnologia amministrativa sempre meno 10 fai il 50 di prestigio ma si visto che continuiamo a perderlo in maniera illegale adesso è meno 5 che era quel suono la spadata no no sto sistemando io le truppe io non capisco perché tra l'epoca degli assolutismi nella missione imperatore della Cina essere l'imperatore di Cina con un mandato supera 50 uno su due l'abbiamo fatto mandato di almeno 50 ci manca essere l'imperatore della Cina sono due voci andiamo a fare l'imperatore della Cina banzo quarto su è l'imperatore della Cina ce ne battiamo al cazzo basso l'ipompo abbiamo colonizzato basso l'ipompo e io direi di andare basso l'ipompo basso l'ipompo oh intanto la Svizzera continua a costruire reti di spionaggio e adesso finisce male la Svizzera li chiamiamo facili perché sono puntuali adesso che abbiamo tanto prestigio posso insultarli no ci costa solo 5 un insulto lo dobbiamo dare ci costa solo 5 scusa ne perdiamo il giro non è che possiamo essere dai uno glielo concediamo possiamo far cagare in testa da tutti uno glielo concediamo il nuovo papa siamo comunque scomunicati si si noi siamo permanentemente ma perché deve morire sta cretina ma se ha abdica che cazzo succede meno 50 prestigio no 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 un disastro un disastro non ho detto nulla io eccola qua nella nazione questo è per alchire nella nazione mediterranea la parola Svizzera è sinonimo di letame conferma oh è sinonimo eh l'hanno preso come un insulto incredibile comunque ragazzi aumentare l'assolutismo ci dà anche efficienza amministrativa vai investi allora ma io si e fra due anni possiamo fare una nuova riforma del governo va di pure con questa abbiamo le nuove galeoni da guerra mamma mia signor vernici i nuovi galeoni da guerra e fregate normale e possiamo fare voglio dei galeoni bellissimi ma questo significa che devo rifare da capo la nuova flotta la nuova da capo perché non posso semplicemente aggiornarla e che vuoi che lo dica non ce la rifarla devi rinascere le sue ceneri ti ricordi da going merry ecco no spoiler no spoiler no spoiler no spoiler non è spoiler è che ha 10 anni fa che vuol dire guarda mio nonno dio bono valutiamo questo significa che dobbiamo fare la san gennaio mk3 no no però questo linguaggio mk3 alla inglese signor vernici levi per favore vernici è naufragato un mercante abbiamo perso 1246 ducati mamma mia come che cazzo portava sto mercato ma scusa ma è un mancato no siamo meno 1000 che male ti dà un prestito eh in internet prenderemo un prestito eh vabbè è la vita fattore della corruzione guadagno di 1 di mercantilismo malcontento locale meno 3 a bancuru potere commerciale locale più 25 prodotti di rottore più 15 o altrimenti perdita di corruzione meno 0,50 corruzione annuale meno 0,05 fino al 1654 direi di guadagnare uno di mercantilismo sì sì assolutamente no la lotaringe ha messo un piede a taiwan bruttissimo trovo decili prenderla tu mi hai detto no no la dottrina lasciala perdere al momento a vernizi potevamo fare la banca nazionale invece no la griglia li chiedono aiuto paghiamo 100 ducati ma non la leggo neanche quella sotto non so se me la prendo lo stesso che fa parte di guadagnare a prendere l'altra parte mi prendo l'altra parte dividiamo un'isola per non creare conflitti 50 di prestigio l'altro cosa ci dà 50 di potere amministrativo ma io prenderei il primo no amministrativo come il cazzo hanno rifiutato hanno rifiutato il prestigio dai si siamo a 73 un miliardo mi ha scorta dove cazzo era deve morire a bernizi terza perché vogliamo a quarta no è morto l'artista no hai indicato male le tue le tue calunnie è morta persona sbagliata è morta Grazie a tutti.